salta faccia la pozzanga salta salta di nuovo faccia le pietre salta facciamo una corsetta a 4 non c'è orso Manuel hai visto Masha? si guarda corri corri vai 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 siamo alla fine ok hai linto spegni pure vieni dammi 5 5 5 alto 5 basso pugno e vai dai 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 Grazie.